buongiorno buongiorno al vostro homeless stamani ho fatto una fuga a bologna credo di averlo già detto in un video avevo bisogno di piegare la boccata d'aria ho trovato questi cerdini vicino alla stazione mi hanno detto che sono un po pericolosi però intanto ci sto mi inquadro una statua delle statue sono alla montagnola vedo che si chiamino la montagnola queste caduti di massi massisa abbiamo due sirene due sirene e noi che abbiamo faccio vedere un po quello che c'è qua quello che ho trovato abbiamo tre tartarughe enormi ho lasciato una roba un po condisponente le tartarughe enormi vedete tutti di cemento forse vuoto dentro qui c'è altre due sirene qui c'è un leone qui lo vediamo di spalle che silenzio ho ucciso un toro mi ha uscito un toro c'è regola va bene faccio vedere la mia bocca la mia roba che ho dietro stamane ho bisogno di silenzio questa è la mia roba questo dovrebbe essere il mio pranzo tonne e uova sono starò una mezza mattinata qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti